...i pochi minuti che dedichiamo a loro. Ci piacerebbe sapere qualcosa di questo meraviglioso aeroplano che ricordiamo è la prima volta che un certo... Bene, ringraziamo, poi magari il pomeriggio facciamo un'altra crisi perché è giusto anche che il nostro amato pubblico conosca la benzina normale su un motore aeronautico. Se non ha... E questo ve lo dico... ...i non sono... ...i sally e i nuovi aeroporti, ...i i limiti nei corri del corpo. E noi dai dai... ...i da una... ...data... ...la servita... ...fogli... ...quindi ci saliamo a dire... ...di certo po' ...ma chissà, ...i risparmio! ...dara... 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.